Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Massimo Boldi devastato dall'evento traumatico che lo ha letteralmente gettato a terra Il dramma della moglie scomparsa. Massimo Boldi è uno degli attori comici più conosciuti al mondo. È colui che, in molte occasioni, ci regala momenti leggeri e divertenti anche se il suo cuore si trova a combattere con una situazione molto triste Sono passati ormai 18 anni dal momento in cui, l'attore, ha dovuto a dire addio per sempre all'amore della sua vita Massimo Boldi non è stato mai un uomo che ha nascosto la sua vita privata al punto che, nel 2016, ha persino pubblicato una autobiografia intitolata Le mie tre vite Ridere, piangere, ricominciare. Al suo interno è possibile leggere anche della magia che ha vissuto nel momento in cui ha visto, per la prima volta, quella che poi è diventata sua moglie per moltissimi anni Tutto ciò è accaduto nel 1972, anno in cui Boldi era un semplice cameriere Tra i due scocca immediatamente la scintilla, al punto che è la stessa donna a fare il primo passo Anche se Massimo Boldi non è più giovane come un tempo, ancora oggi sembra riuscire a far breccia nel cuore delle donne Al punto che ha conquistato addirittura la bellissima Irene Fornaciari La moglie è scomparsa da Massimo Boldi.Nonostante i 30 anni di differenza, i due sono riusciti a trovare compatibilità all'uno con l'altra Su CK12 si può leggere di uno dei periodi più difficili per Massimo Boldi, ossia il momento in cui la moglie Maria Teresa è scomparsa a 47 anni È stata una malattia terribile, la causa di una delle perdite più terribili che l'attore abbia mai visto nella sua vita Nonostante sia un volto noto nel mondo dello spettacolo, Massimo Boldi non ha mai voluto raccontare ciò che è realmente accaduto nella sua vita Qualche cosa che gli ha strappato via l'amore della moglie Maria Teresa Sappiamo però quando la loro storia d'amore ha avuto inizio, i due nel lontano 1973 sono convolati a monse Massimo Boldi di sicuro non si aspettava di separarsi dalla moglie così velocemente Ed è proprio per questo motivo che, un evento del genere, ha portato numerose conseguenze nella sua vita sia privata che lavorativa Nel momento in cui l'attore è venuto a conoscenza della triste notizia, era impegnato sul set del film Natale in India A causa di quanto accaduto, per un certo periodo di tempo, Massimo Boldi si allontanò anche da Christian Dessica L'uomo con il quale ha collaborato in molti film.Infazzi sembra essere stata proprio questa la causa che li ha portati a recitare in produzioni diverse, per un certo periodo di tempo, per ritrovarsi solo dopo molti anni Fortunatamente oggi Massimo Boldi è riuscito a trovare la forza di andare avanti, e di vivere serenamente il resto della sua esistenza Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video